Nella giornata di inaugurazione dei mondiali in Catara ecco la serie a ferma, tutto esaurito sugli spalti del Davide e Matteo V per la sfida tra il San Benedetto capolista e il San Gregorio quarto in classifica. 4-4-2 per mister per Paolo Rotili che mette davanti alla difesa Domenico di Alessandro Erricci con i ruoli di interdizione e costruzione del gioco. 4-3-3 per gli ospiti di Berardino di Genova che schiera l'attacco stellare composto da Catalli e Torre e Mancini. A Serafini le chiavi della difesa giallorossa, pronti via ed è il San Gregorio a farsi pericoloso con il colpo di testa di Ricci che termina di poco fuori. Gli ospiti ci mettono poco a passare in vantaggio, Catalli si mette in proprio e da poco dopo il centrocampo con un lob preciso beffa l'estremo difensore di casa colpevolmente troppo fuori l'area di porta. Il San Gregorio non si scompone e dopo due giri di lancetti Domenico di Alessandro suona la carica con un tiro dalla distanza che termina alto sopra la traversa. Ancora i nerazzurri, Ricci disegna e Anaia Ruiz colpisce bene di testa ma l'estremo difensore ospite con grande istinto risponde bene salvando il risultato. Per il San Benedetto ci prova anche Torre, sarà l'unico squillo del sette ospite ma Di Casimiro è attento e neutralizza. Alla mezz'ora la gara si infiamma e fa divertire 300 tifosi presenti sugli spalti. Catalli duetta con Mancini che calcia a botta sicura ma Di Casimiro si fa notare con un doppio intervento d'applausi e nega la gioia del gol a Mancini e a Zazzara. Nella ripartenza ecco che il San Gregorio trova il gol dagli sviluppi di una rimessa laterale ma il direttore di gara annulla per fuori gioco. Neanche un minuto e Mazzaferro viene fermato così in piena area di rigore con le vibranti proteste di tifosi locali per la mancata assegnazione del penalty e solo il preludio al pareggio. Difesa ospite non impeccabile e magistro in bello stile e ottima coordinazione in fila bassi con una pregevole stilettata. Il San Benedetto si fa rivedere dalle parti di Di Casimiro ma il tiro di Catalli questa volta non inquadra lo specchio di porta. Dopo un primo tempo scoppiettante nel secondo il ritmo scende. Il San Benedetto si fa pericoloso con il tiro di Di Pietro. Di Casimiro non è impeccabile e Mancini la mette dentro ma l'arbitro giustamente annulla tutto per fuori gioco. Dopo questa fiammata iniziale il San Benedetto lascia il campo nerazzurri. Al tredicesimo si fa notare Domenico di Alessandro con un buon calcio di punizione ma il tiro finisce di poco alto sulla traversa con Bassi che controlla. Mister di Genova cerca di svegliare i suoi e le prova tutte tatticamente facendo entrare in rapida suggestione. Gramenia del Vecchio e Cordischi al posto di Di Vittorio e Torre e Mancini ma sarà sempre San Gregorio a gestire la gara. I padroni di casa colpiscono il palo e la sfera sbatte su Bassi ma incredibilmente non entra. I nerazzurri oggi in maia bianca si fanno pericolosi con la Naja Ruiz che l'appoggia. Per il neo entrato Bravogo ma il giocatore forse ancora freddo la tocca incredibilmente. Così. Ma non finisce qui. Cross di Marino di Alessandro, Antonacci. Sbaglia e un rigore in movimento. Un giro di lancette dopo ed è ancora il San Gregorio che si fa pericoloso. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo Ricci colpisce di testa ma la palla termina di poco a lato. Succede così che dopo otto vittorie consecutive arriva per la capolista il secondo pari stagionali mentre il San Gregorio si morde le mani per aver conquistato un solo punto dopo una prestazione autorevole contro niente meno che la capolista. Spazio ora alle interviste.